Lutto nel cinema italiano è morta l'attrice Laura Antonelli. È stata trovata priva di vita alle 8.30 del mattino di lunedì dalla donna delle polizie che l'ha trovata per terra. Sono stati allertati immediatamente gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Per l'assessore ai servizi sociali del comune di Ladispoli ha detto che il fratello e due suoi amici avevano chiesto di essere chiamati proprio dalla stessa attrice quando sarebbe deceduta. Laura Antonelli è stata una delle attrici più importanti del cinema italiano e il suo personaggio più famoso fu quello della Cameriera di Malizia, il film di Salvatore Sanferi, girato nel 1973.